Ciao ragazzi e benvenuti per tornare al mio canale, io sono Dragongest e oggi 4 marzo 2023 andiamo a vedere cosa c'è di disponibile nel negozio c'è di fortuna Subito all'inizio abbiamo le icone, la serie di icone, quindi avremo tutto lo shop di serie di icone oggi Bundle, Buga con Buga, poi abbiamo Cyper, PK e quindi Aliyah, scendiamo ancora, abbiamo il Ninja, Lashlan, Defrag, Laserbeam, Loserfruit Damagea in possesso, eccolo qui, Laserbeam, Loserfruit, CKA e ancora il bellissimo Flakes Power e poi in evidenza abbiamo il Bundle Giri al Minuto con Burnout, quindi il Bundle Comando Artico con Assassino Artico e Zero Assoluto e poi il ritorno di Lucien West con il piccone reattivo e poi Fauci Tenerone, Fauci Comodone e quindi tutto il pacchetto impavido del Green nelle giornaliere abbiamo uno specialista ricognitore e macello, le emote, atmosfera isolana e da spanciarsi oggi è uno shop ragazzi enorme torniamo all'inizio ma non prima di dirvi mi raccomando iscriviti al canale, attivate la campanella, condividete il video con i vostri amici e lasciate un mega mi piace andiamo subito a vedere il Bundle Buga, eccolo qui con più stili selezionabili Buga, Buga Elite e Buga campione del mondo il suo dorso decorativo trofeo di Zoe e quindi lo strumento di raccolta lame di Buga e l'emote ma anche sì 1800 di bug ragazzi per portarci tutto questo bundle a casa e avete anche la possibilità di prendere tutto in modo singolo scendiamo e ancora nell'icone troviamo il bando Cypher PK e quindi ancora Cypher PK con i suoi stili selezionabili Cypher PK, potenziato reattivo poi abbiamo potenziato reattivo no e quindi lo stile posseduto e poi abbiamo maschera scarlatta no e maschera scarlatta sì ovviamente abbiamo il suo dorso decorativo maledizione del Loni Loni in giapponese ragazzi significa demone stili selezionabili reattività sì e reattività no e quindi reattivo completo bello 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 questo ragazzi poi abbiamo lo strumento di raccolta scimitarla di Cypher anche qui con più stili selezionabili la reattività sì, la reattività no e la reattività completa bellissima anche qui delta plano Shukuki bellissimo anche qui più stili selezionabili Shukuki non più Shukuki prosseduto stupendo bellissima e poi abbiamo la camminata di Cypher serie di icone bellissima anche questa qui ragazzi e la copertura drago oscuro per me 2000 V-Bug perché sono già in possesso di due pezzi mentre per voi ragazzi sono 2800 V-Bug bello 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 torniamo indietro e potete poi ovviamente prendere tutto in modo singolo nella serie di icone abbiamo ancora il bundle Ali A andiamo a vederlo anche lui con molte personalizzazioni Alia che fa parte ovviamente del capitolo 3 stagione 2 la sua prima apparizione andiamo a vedere tutti i suoi stili selezionabili che sono tantissimi lo stile lo stile Ali A elevato matroax matroix o come lo volete dire voi ultra armatura matroix apoteosi di zaffiro senza maschera apoteosi di zaffiro titanio tattico senza maschera e quindi il titanio tattico ovviamente con la maschera le luci sì e le luci no e poi possiamo cambiare ovviamente il colore del possiamo cambiare il colore del logo all'interno dell'armatura e poi tutte le colorazioni che si hanno anche giù nelle caviglie e nelle giunture e sui polsini gli occhi e dietro il colletto ragazzi insomma c'è un bel po' da sbizzarrirsi abbiamo anche il dorso decorativo placca dorsale Alitec eccolo qui stili selezionabili la placca dorsale Alitec e ali di plasma Alitec e anche qui possiamo andare a selezionare la nostra colorazione e utilizzare questo backpack ragazzi per fare delle griglie stupende ali di plasma Alitec è il deltaplano che ci viene dato con più stili selezionati colore luce mietitore l'inizio poi combattimento non comune ribelle epico e quindi leggenda stupendo questo qui secondo me ragazzi bello 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 poi abbiamo ancora lo strumento di raccolta bastone Alitec stili selezionabili ragazzi sono tantissimi gli oggetti per quanto riguarda Ali combattimento non comune ribelle epico e leggenda stupendo veramente poi abbiamo le moti piccole di Plodocus azzurra è la copertura della serie di Kune 2400 vi vaga ragazzi per tutto questo bundle non è male come prezzo diciamo per la quantità di oggetti e di personalizzazioni che possiamo avere al suo interno e poi potete prendere tutto in modo singolo e prendere solo ciò di cui potete prendere in quel momento sono solamente ciò che ti piace eccolo qui il bundle ninja bello 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 prima apparizione capitolo 2 stagione 1 bello è stato proprio lui se non ricordo male il primo della serie di Kune ad iniziare ditemelo nei commenti se mi sto sbagliando e se sto facendo un epic fail stili selezionabili andiamo a vedere il predefinito la maschera indossata a corvo e reattivo e poi abbiamo al suo dorso decorativo egemonia ninja e quindi lo strumento di raccolta doppia katana e l'emote stile ninja 2000 v bag per portarci tutto questo bundle a casa e abbiamo la possibilità di prendere tutto in modo singolo beh in confronto a Cypher PK ragazzi ne ha veramente poche di cose dovrebbero aggiungergli qualcosa a questo poverino di ninja icone pacchetto Lashlan ancora ed eccolo qui Lashlan costume serie di icone poi abbiamo il pacchetto PTR e quindi il pugno del PTR e lo strumento di raccolta affettatrici del PTR 2200 v bag ragazzi per questo bundle bello 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 potete poi prendere tutto in modo singolo come sempre Defrag eccolo qui andiamo a vedere anche lui costume e dorso decorativo reagiscono alle eliminazioni abbiamo poi la possibilità di prendere anche il dorso decorativo sfere del potere l'emote integrata squadra del controller e quindi lo strumento di raccolta bastone del controllo 1800 v bag ragazzi per portarci Defrag a casa e potete poi prendere ovviamente tutto in modo singolo scendiamo e abbiamo il bundle Laser Beam eccolo qui simpaticissimo mi piace questo ragazzi è proprio simpatico a guardarlo stile Laser Beam Relax Beam Laser Beam casco e quindi Laser Beam cappello ragazzi bello 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 Relax Beam no Laser Beam perdonatemi ho letto male abbiamo poi il suo dorso decorativo baby zenzero e quindi l'emote pausa pranzo e poi lo strumento di raccolta ma io ho fidato che abbiamo sia quello piccolino sia quello a grandezza naturale bello 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 1800 v bag ragazzi per portarci il Laser Beam a casa scegliamo e nella serie di voi troviamo ancora Luser Fruit che io vado pazzo ragazzi Luser Fruit bellissima secondo me abbiamo il suo dorso decorativo sacchetto pupazzetto e quindi l'emote fragolina rimbalzina e poi lo strumento di raccolta colpo di frutta andiamo a vedere quanto viene per tutti quanti voi 1800 v bag ragazzi per portarci Laser Fruit a Luser Fruit a casa e chi non lo farebbe scendiamo e abbiamo ancora nella serie di icone bundle chica eccola qui bellissima anche lei da me in possesso ovviamente proprio perché sono ragazzi io vado pazzo per le skin di donna ragazzi perché nel game secondo me sono fenomenali stili selezionabili la stile cica screziatura prismatica screziatura reale poi cappello il predefinito gli occhiali da sole ragazzi e poi il cappello maschera da caccia bella 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 ragazzi stupenda secondo me dorso decorativo stella di cica con più stili selezionabili la stella di cica e screziatura reale poi abbiamo in possesso lo strumento di raccolta lama di Aida anche qui con più stili selezionabili la lama di Aida è lo stile non normale e la screziatura reale è il suo secondo stile e poi abbiamo l'emote ballo del coccodè bella 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 potete poi prendere tutto in modo singolo scendiamo e abbiamo il pacchetto flex power che avevamo già visto precedentemente ma come tutte le serie di icone andiamo a vedere i suoi stili selezionabili flex power e potenza fantasma bagliore flex power e carico wow bellissimo anche questo qui dorso decorativo elettro stemma con più stili selezionabili elettro stemma e potenza fantasma e poi abbiamo lo strumento di raccolta falci e elettriche anche qui con più stili selezionabili lo stile falci e elettriche e lo stile potenza fantasma e poi l'emote flex ballo 1800 vi baga ragazzi per portarci tutto questo bundle a casa poi in evidenza nella sezione in evidenza abbiamo il bundle giri al minuto con born out prima apparizione stagione 3 poi abbiamo centauro estremo della stagione 10 e quindi come dorso decorativo impennata bello 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 e poi il dorso decorativo ancora baule da moto e poi ciclone deltaplano io questo l'avevo anche messo in contest quindi qualcuno oggi si ritroverà questo bundle che costa veramente poco deltaplano moto acrobatica bello 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 ragazzi 2000 v bag per questo bundle possiamo prendere born out a 1500 centauro estremo ad 800 ciclone a 1200 moto acrobatica ad 800 e baule da moto a 200 v bag scendiamo e abbiamo il bundle comando artico 2000 v bag per portarci tutto il bundle a casa abbiamo assassino artico 0 assoluto lo strumento di raccolta rompi ghiaccio il deltaplano tormenta 2000 v bag per portarci tutto il bundle all'interno del nostro armadietto assassino artico a 1200 0 assoluto a 1200 rompi ghiaccio a 500 e tormenta a 500 scendiamo e abbiamo il bundle lucien west da 1700 v bag eccolo qui lucien west con più stili selezionabili la maschera si e la maschera no e poi il suo dorso decorativo lillui eccolo qui bello 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 e lo strumento di raccolta stella dell'ovest con più stili selezionabili la reattività è reattivo la reattività si e reattività no bello 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 anche questo qui la copertura protettore puntate alte molto bella questa copertura secondo me e poi abbiamo anche la schermata di caricamento riunione del club puntate alte sono fighissimi tutti e due si così sinceramente quelle due skin anzi anche la terza ragazzi che fa parte del nostro pass 1700 vi baga ragazzi per portarci tutto questo bandolo a casa potete poi prendere lucien west da solo a 1200 stella dell'ovest lo strumento di raccolta ad 800 e proiettore puntate alte a 300 scendiamo e abbiamo ancora fauci tenerone a 1200 prima apparizione capitolo 2 stagione 3 frenesia alimentare è il set di cui fa parte con più stili selezionabili con la coda e senza coda e poi abbiamo il dorso decorativo sciallo squaloso 1200 vi bag fauci comodone la controparte maschile di cui non ha più stili selezionabili non ha la coda ovviamente il suo dorso decorativo è morso profondo 1200 vi bag ed è nostro vela squalosa e il deltaplano che fa parte del set frenesia alimentare deltaplano leggendario 1500 v bag bello 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 è un deltaplano che si surfa schiaffo dello squalo è lo strumento di raccolta da 500 v bag capitolo 2 stagione 3 fa sempre parte del set frenesia alimentare squalo è la copertura non comune sempre del set frenesia alimentare capitolo 2 stagione 3 300 v bag del vostro tra le altre fette troviamo il pacchetto impavido del green 1 2 3 4 e 5 skin ragazzi da 2500 v bag ve le portate tutte quante a casa con più stili selezionabili andiamo a prenderne uno colore predefinito e giallo cappello si cappello no occhiali si e occhiali no abbiamo anche la possibilità di prendere il driver indomito lo strumento di raccolta e quindi il dorso decorativo pacchetto par che se non ricordo male anche questo l'ho messo all'interno di un contest driver indomito eccolo qui lo possiamo prendere a 800 una qualsiasi delle skin che abbiamo visto ad 800 e il pacchetto par a 200 e nelle giornaliere troviamo specialista ricognitore 1200 v bag per questa skin dove la prima apparizione è stata nella stagione 1 costume specialista ricognitore raro 1200 v bag ed è nostra e poi abbiamo l'obsediato di prendere ad 800 v bag macello il costume non comune del set segnalatori del capitolo 2 stagione 1 bella 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 forchello lo strumento di raccolta da 500 v bag con più stili selezionabili forchello e colchetta bello 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 500 v bag prima apparizione stagione 9 abbiamo poi stampa floreale la copertura non comune da 300 v bag che fa parte del set giglio rosso e quindi per finire le ultime due emot disponibili atmosfera isolana emot da 500 capitolo 2 stagione 1 intorno a una canzoncina felice 500 v bag del nostro e poi da spacciarsi stagione 8 smettila di bicchiarli 500 v bag ragazzi e ce la mettiamo in torno al nostro armadetto è qui che finisce lo shop di oggi insieme a tutti i bundle che abbiamo già visto precedentemente io ritorno in lobby ragazzi e dopo mezz'ora di parlata vi auguro una buona giornata ed un buon fine settimana per questo video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella condividete il video con i vostri amici e lasciate un mega mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao